Noi abbiamo vissuto qualche anno di fanatica, caccia, preconcetta alle streghe individuate nelle banche. Leggendo i promessi sposi c'era qualcuno che pensava che ci fossero gli untori e bisognasse combattere gli untori pensando di risolvere il problema della peste. Ecco, è avvenuta più o meno la stessa cosa. Pensando di combattere la crisi economica si è fatto polemica con le banche italiane che non l'avevano causata e quindi si è andata nella nebbia. Stiamo uscendo dalla nebbia da qualche mese, vi è una consapevolezza più diffusa e di conseguenza tardivamente vi è una richiesta di atti che era meglio poi in essere tre, quattro, due anni fa. Io apprezzo quello che il governo sta facendo in queste settimane.